Stardroppigno leggendario, vado, cornaso, te prego. Buongiorno bellissimi, io sono Grax, bentornati su Brawl Stars. Ebbene sì, il video di Sandy 999 sta quasi per raggiungere in questo momento i 9999 like. Ne mancano pochi, non so quando uscirà questo video, probabilmente avrà già raggiunto quella soglia e sicuramente superata. Ve lo dico, droppate altri like perché probabilmente Sandy sarà il primo brawler rank 30 di Grax, prima di GTA 6. Io vi chiedo un like perché quest'oggi faremo la classificata, la chiuderemo per la terza volta, campioni. Perché vi ricordo il primo mese non l'ho fatto, siamo arrivati a leggende. Prenderemo lo stardroppino classificato, l'ultimo. Ci deve stare una skin, se no mando un ticket a Supercell. E uno stardropp leggendario, siamo quasi per sbloccare Drago. Chi lo sa, siamo fortunati, saremo fortunati non lo so. Nel dubbio siamo con Alex Zanna, compagni fedeli, li trovate in descrizione. Seguiteli perché stanno sul pezzo e sono fortissimi. Continueremo il push delle coppe, siamo a 33.000, arriveremo a 34-35, seguiteci in live. Tra l'altro questo video esce sabato, probabilmente faremo Clash of Clans oggi. Vabbè, cose. Non so, ho dimenticato, codice Crax, a free allo shop e Supercell Store, lo sapete, il codice Crax, un sacco di premi, tutto molto sexy. È stato un tagliettino come piace a noi, ma sicuramente adesso mancano tre partite. Oh, questa mappa che ricordi. Siamo sempre contro rosso 1, rosso 2, rosso 3, ci perseguitano, ci sniperano tutte le partite. Quasi quasi, i due jumper li toglierei tutti e due. Che sta succedendo? No, sef, snus, snus, ok ce l'ho fatta, scusate. Ho fatto bene a togliere Edgar, mamma mia che rischio. Mi piacesse, Steak è molto buono, mi piacesse utilizzare Nita, non sarebbe male. Potrei utilizzare Sorge, però non l'ho potenziato Sorge, mi sa che ce l'ho a Bassetto. È un brawler invece utilizzatissimo, sicuramente ci investirò punti energia. Ah, siete sicuri? Sandy? Vabbè dai, rendiamo il tutto un po' nascosto. Ok, avrei preferito il Trower, perché poi ci stanno pure i muretti indistruttibili. Esatto, e Alex si diverte, guardano a Mike, io lo lascio ragazzi. Gli concedo il privilegio di deliziarci, Cordelius è forte eh, di deliziarci con i suoi bomboloni giganti. Ah, anche lui mette il bombolone, non mette il salto. Ok, tutti i campioni, bene, sarà una bella sfida. Grax si deve rilaureare tre volte, per tre volte campione. Allora, Bonnie, che era quello snappino? Uh, posso utilizzare la super skin, però mi hanno preso veramente a pizze malissime. Infatti aspetta Grax, recupera un po' di life. Credo che la Shelly stia per andare giù, tirano a ulti abbastanza sus quella ulti. Ok, posso andare con una ultis. E ma adesso come mi colpisci? Come mi colpisci Shelly? Ok, hanno capito che sto lì. Però Shelly va giù. Mamma mia Sandy, ragazzi, che brawler incredibile, con che skin me lo stai dicendo. C'ho pure lo stunnetto, io calmi. Va subito Zan a fermare la situa. Hyper Drive, bombolone, esplode tutto, nessuno si può avvicinare. Fermo lui. Esploso. Oh, questa è una bella partita. Come si deve. Ok, hyper, ulti, offensiva addirittura. C'è Surge, c'è Shelly. Vabbè, la sto colpendo con lo shield. Però, vabbè, comunque il nostro... L'abbiamo fatto, rimango io sul punto. È la prima andata. Veloce e indolore. Na 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 na. Cuciniamo questo campione insieme. Speriamo di trovare delle belle ricompense. Se merita i bling, ragazzi. Se merita i bling, prepara... Ma che fa quello? Ma chi? Ma chi è? Ma so snap... Ma so snapini? Ma so snapini? No. Ma so snapini! Hanno provato a fare il colpaccio? No, ragazzi. Ma qui vi ho immortalato in video. No. So snapini. Volevano fare lo scrinetto. Allora, vi dedico il più bello dei graffiti. Erano snapini, ma non lo sapevo, regà. Occhio, perché ancora non è detto, eh. Potrebbe essere comunque una partita aperta. Ho tolto lui. Ce ne andiamo di qua. Diamo supporto allo stecca. Erano snapini, snapini, snappò. I nostri amichetti del cuore. Un abbraccio. Comunque, grazie per il match. Sempre bello giocare con amichetti. Me ne torno indietro. Una bella partita comunque. Ho preso pure la kill per le stats. Bene. Fate gli scrinnetti. Un saluto a Jammie, Tommy e Jonesy. Ottime statistiche. Grax l'immortale. Allora, dopo una snappatina. Gentilmente. Ti prego, non mi dà... 290 punti. Ragazzuoli, fondamentale. Se volete salire velocemente, giocate con qualcuno con più punti di voi, leghe di voi. 300 punti a L3. Non so se ci siamo capiti. Una botta assurda. Rischio addirittura di chiuderlo con un'altra partita. Andiamo con l'ultimo Stardrop classificato. Ho trovato, mi sembra, solo due avatar da tutti quelli coperti sto mese. Te prego. Neanche gli snappini hanno funzionato. Mamma, mi dissocio in un modo, ragazzi. E poi la gente dice, Grax, ma perché dici che devono rivolcare le ricompense? Un'altra Dominio. Allora, Dominio. Loro hanno il primo pick. Io, sinceramente, vorrei togliergli Sandy. Perché se si scelgono Sandy, non la raccontiamo. Grax non la vuole utilizzare. L'abbiamo utilizzata una volta, va benissimo. Drago, Melo di Sandy. Esatto. Perfetto. Anche loro hanno tolto addirittura Jesse. Qui ci può stare il Mr. Pingu, che me lo fanno giocare sempre. Sempre comunque rosso 1, rosso 2, rosso 3. Angelo deve giocare molto bene. Se mette i pinguinelli qui... Charlie con i ragnetti. Bisogna capire poi chi è che va a fare il mid. Mamma mia, regà, per un attimo ho cliccato l'uomo e preso un coccolone. Mr. Pingu preso. E Alex. Oh, Larry e Lori. Bene, il Pingu funziona. Ambretta hanno un gran bel team. Qua ci serve lo scacco matto di Alex. Se metto, abbiamo una comp non troppo solida. Forse loro mi si un po' meglio. Però eventualmente facciamo partite. Dobbiamo arrivare a campione e prendere lo star droppino. Non vi preoccupate. Oppure se vinciamo subito possiamo fare pure il primo match a campione. No. Vai. Io ho il Pingu, quello vampiro che è bellissimo. Colpettini. Se carico il Pingu posso dargli... Guarda l'angeletto. Devo fare un ruttino, arrivo. Ok. Ok, altro colpo per Angelo. Sta ricaricando. Non so se siamo soliti per andare... Eh, qui mi arriva un 5k, lo sapevo. 4 e 4. Lo so fatto massacrare. Ritorniamo. Non è facile. A meno che il semetto gli blocca la lane centrale. Non è qui. Quello è un 4k easy che mi arriva. Dai! Non riusciamo ad andare nel mid. Non riusciamo ad andare nel mid. Occhio. Schivatino. E Ambra fa quello che vuole. Danni incredibili. Siamo troppo fragili. L'ho vista la comp un po' così. È vero che si può fare tutto, eh. Perché se inizi a funzionare nel mid, poi dopo fai delle bellissime cose. Questa è la prima percentuale che prendiamo. Larry zona forte. Angioletto sta da quella parte. Bisogna chiudere. Servono infinite ulti da parte di Semino. Calmi, eh. Non succede, Bat. Se succede... Aspette danni, me li prendo io. Voi rimanete nel mid. Io c'ho pure i gadget, però ricorda quello, Crax. Gioletto mattissimo lì, eh. Aspetta, Larry. Pinguino gigante. Eh, se inizi a dominare il mid... Ti cambia palesemente la sito. Occhio ai ragnetti. Io però sono quasi shottato. Uh, che chiusura che gli ha fatto Alex. Vai, vai, pinguino. Vai, pinguino. Vai, pinguino. Mi ha tolto la torretta. Maledetto. Mettere la torretta un pochino prima. Mamma mia, che match, ragazzi. Angelo ha sprecato. Ambra sta messa molto bene. Cerco di colpire Angioletto. Però do già bene. Va a finire nel lago. E l'ho chillato. Zitti, zitti, zitti. Piccola percentuale per noi. Larry. Mettere Musetto davanti. Vorrei caricare un altro pinguino se riesco. Un altro pinguino, ti prego. Un altro pinguino. Ambra quanto spinge, ragazzi. Alex sta facendo una partita. Ma anche Zan, clamorosi, mi sono fatto ammazzare. Però, 70%. Non mi togliere la torretta, ti prego. Non mi togliere la torretta. Ho finito i colpi. Non c'ho i colpi. C'eravamo quasi, eh. Allora, secondo me se partiamo un po' meglio all'inizio... Si può pure fare. Ormai questa è chiusa. L'avano preso troppa percentuale all'inizio. L'avano preso troppa percentuale all'inizio. Con calma. Con calma. Bel match combattuto. Loro sono molto bravi. Hanno un'ottima comp. Se li pressiamo all'inizio e non perdiamo le lane, si può fare. Zio Pera, aggiungerei. Ormai è diventato meme sul mio canale Zio Pera. Dopo tre anni, no, quattro anni dalla creazione. Grax ha scoperto il Zio Pera. Zio Pera. Devo cercare di migliorare i miei slang, belli. Al passo con i tempi. Cucinare, tutte queste cose qua. Perché la comunicazione ovviamente cambia. Buona quella kill. In combo con Alex. Carichiamo subito i pinguini. E dai, col pinguinello. Sì. E stavolta leggermente meglio l'inizio. Io comunque soffro sempre Angelo. Qualsiasi partita, sempre colpa mia che ne faccio massacrare Angiolino. Metto i pinguini lontani in modo tale che... Vai. Ce l'hai, ce l'hai, ce l'hai. Pinguinello grasso. Devo riprendere vita però principalmente. Buono guardanno. Ma pressato ragazzi. Ambra va giù. In un modo assurdo. Vedi percentuale. Mazza che partita questa. Che spettacolo. Vai. Vai Alex. Percentuale. Ambretta. Zorro. Ok. Pinguinello serve, no? Basta rimango io sul punto. Oh! Grossa kill su Larry. Ci piace. Intanto percentuale che sale. Lì Charlie sta gestendo benissimo. L'angelo. Comunque Alex dovrebbe chiuderlo. No. Peccato. Aspetta che rinasco. C'ho ancora altri due gadget. Gadget. Sto troppo lontano. Non me l'ha fatto caricare. Eh no. Però se io mi butto in avanti così troppo. Ambra mi massacra. Vida. Sul pinguino. Vai pinguino. Vai pingui. Carri alla pingui. Buona quella kill. Ok. Rimaniamo sul punto. Alex può anche tornare indietro. Cambio lane. Cambio lane. Cambio lane. Cambio lane. Vero che Angelo... Aspetta eh. Perché io comunque c'ho il pinguino che gli fa sprecare un colpetto. Eh ma Ambra mi toglie tutti i pinguini con gli interessi. 54. Mamma mia. Che match amici. Dove è Ambra? Non la vedo. Eccola. Sì. Stanno recuperando. Hyperdrive de seme. Bene. Sul punto. E grossa recuperata da parte nostra. Mi tengo la ulti che è comoda. È vero che i pinguini comunque... Se li metto laggiù non è che me li tolgono eh. Occhio. Mi sono preso il 4k ma era ovvio eh. Imbossolata l'Ember. Subito danni. Vado giù io. Mamma mia. Match clamoroso. Alex è chiuso però. Non è una bella situa. Come qui mi ha zonato l'ingresso. Eh ti devo dire che o li chiudiamo subito. Forse non c'è più tempo ragazzi eh. Non c'è più. GG per loro. Bellissima partita ragazzi. Nulla da tiro. 83.96. È stato un bel match. Un 8-8. Ma. Non è che io abbia fatto chissà cosa. Però si vince e si perde. Servono comunque credo due partite. E ve le metto nervi lì. Leon e Byron. In conclusione. Eh nella partita di prima. Col Mr. P magari all'11. I pinguini un pochetto più forti. Era una partita tesa. Forse poteva fare qualcosa in più. Però l'errore grosso è stato l'inizio del primo match. Andando sotto al 60%. Un pochino brutta la situa. K.O. Ok. Non abbiamo nessuno che vola. Sulla pozzanghera a sinistra. Sul laghetto. E allora bisogna passare tutti di qua. Zanna apre comunque. Quindi. Velocizza. Il ritorno. Che poi qui non c'è il ritorno. In realtà. Cerchiamo di colpire Leon subito. Perché poi. Se metti il pinguino. È un aiutante in più. Capito Charlie. Presa. Ok. Non l'ho ripresa però con un altro colpo. Bene. Doppia valiggiata. Occhi ai ragni. Occhi al Bastare che si avvicina. Fermalo. Ok. Il pinguino me lo tengo. No 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 no. Metti il pinguino Grax. Metti il pinguino. Non c'è nulla da rischia. Potevo risparmiare il pinguino. Occhi al Leon. Non so dove sta. Ho tirato tutti i colpi ragazzi. Devo salvare i pinguini. Se ne va il Leon. Mi sono fatto killare come un pollastro. Colpa mia. Devo stare più safe perché avevo i pinguini. Però faccio il pollicione. 1-0. Occhio. Il Buster prima. Ho rischiato tantissimo eh. Ari eccolo. Di nuovo lui. Ottima la cura. Leon ci ha provato a fare il colpaccio. Stavolta rimane solamente lui. Non ci dovrebbero essere problemi. È vero che lui. Non credo che si brucera l'hyper eh. Io mi tengo la ulti. E la kill me la prendo io. Allora subito pingui. Stavolta. E proviamo a chiudere il set. C'è una Charlie un po' matta sulla destra. Ce l'abbiamo? No per poco. Occhio al Buster. Buster. Buster sinistra. Io posso fare il gadget. Eh GG. No. Penso sia GG. Credo sia GG. Perché poi c'è sta Leon giù. No non c'è Leon. What ma non c'è Leon. Fermi. Credevo ci fosse Leon. Per fortuna che non mi so esposto. Crax focus. Stai giocando. Non è che stai a fare un'altra cosa nel frattempo. Stavo chiacchierando e tutto eh. Però. Potrei stare un capellino più focus. Leggermente. L'abbiamo gestita per la Charlie. Mi ha preso un colpo ragazzi. Il Buster comunque. Due volte ci ha provato. Due volte si è preso il calippo. Eccolo il Buster. Eccolo il Buster. Eccolo il Buster. Eccolo il Buster. Stavolta l'ha preso. Stavolta. Sì. Leon. Leon. Zan. No. Di nuovo la fight 1v1. C'ha sicuramente. Eh. Mi devo caricare la ulti. No. Vabbè. Ho tirato un colpo. Leon. Mi massacra. Che ci faccio io con le bare aperte e i cappotti di legno. Che ci faccio. Stessa sentenza del match di prima. Stavolta ci ha fregato Buster. Che ci ha tolto un Brawler. Ok. Fammi caricare un pinguinello per piacere. E dagli col pinguino. Occhio all'imbozzolamento. Questo mi gira i colpi. Fuggi Grex. Oddio. Non se lo aspettava. Devo recuperare vita. Eh. Guarda che fascia. Come fai? Come fai? Io non ho danni grandi. Non ce la faccio. Sono riuscito a togliere Charlie ma il Buster è troppo solito. Cioè le fight per esempio le 1v1 le perdo tutte. Io riesco a funzionare se i pinguini funzionano. Ottimo il colpetto. E dai. E dai che quella è andata giù. Quella è andata giù. Quella è andata giù. Qui l'inizio è un pochino meglio. Leon lo vedo un po' in difficoltà. Fammi caricare i pinguini. 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 Ok. Fermi che forse abbiamo... Dopo di questo è il match point. Caricatevi le ulti ragazzi. Ti prego Leon recupera vita. Ok. Più o meno. Io sto a metà. Zan ce l'ha. E Byron non lo so. Allora. Questo è un match fondamentale poi per provare a chiudere il champ. Buoni quei danni. Mi manca un colpetto per i pingu. Sta prendendo... Perfetto ce l'abbiamo. Occhio al Buster sta lì eh. C'è il Buster da 10k. Quella è andata giù. Quella è andata giù. Sì. 3v2. No. No. Sta a litigare ragazzi. No. No. Ho registrato. No. Fate l'amore. Non fate la guerra. Ma perché Brawl tende ad allontanare i player del team? Un litigio ragazzi. Un dissing. L'ho immortalato. Se so... Do sta Leon? Do sta Leon? Se so... Guarda. Guarda Leon. Leon. Ben buono dell'ena. Se so di sa. Ma non si fa. Ma non si fa. C'è pure Lollo in chat. Lollo diglielo che questi qua se stanno a bisticciare. Ma non è una cosa fattibile. Ci manca una partita. Credo di sì. 206. Stiamo andando fuori. Dai. Ma non si fa. Ma non si fa. Ma tutto studio. Cattivi. Provo. Ma perché Brawl Stars ve lo cura dentro? Non capisco. Master. Master. Leggende. Dovrebbe darci 200 punti tranquillamente. Con la tecnica del giocare con un campione. No. 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 Ma quindi era una lobby random. Ems. Te segnalano. Stavo parlando di fare l'amore e non fare la guerra. Ma questi qua te linciano. Mi dissocio. Ti bannano come Lollo. Ti bannano come Lollo. Ems. Mi dissocio. Totalmente. È giusto ragazzi. Fortunatamente era Snipe. E ci ha portato a 4951. Altra partita e si parte. K.O. Nuovissimi orizzonti. Si può bannare il Mico. Io tolgo Mico. Non mi piace qui. Comunque K.O. A livello di ansia. Forse una delle modalità più toste. Proprio di distrugge inside. Where is Mico? Ciao Mico. Zan si è preso Angelo. Oh ma tutti i Buster. I push finale di Buster. Ma perché? Piper? Ah potrebbe essere la combo Buster Kit? Mi dispiace Crax è bullizzato con Mr. P. Per forza di cose. Mi tocca mettere Mr. P. Nella precedente K.O. Ci siamo divertiti. Quindi di nuovo la combo. Stavolta con Angioletto, Meg, Piper Buster. Forse questa è la chiusura del video. È stato un video incredibile. Avrò tagliato della roba perché altrimenti sarebbe troppo lungo. Allora Mr. P, Angioletto e Byron. Io me la prendo laterale. Tirerò dei bellissimi cappotti di legno. Guarda che cappottino che ti tiro. Guarda che cappottino di legno. Vai. Là. Olè. Piper mi ha tirato un 3-4 però. Mr. P comincia a volcare quando metti i pinguini. Quando inizia a mettere i pinguini. Fai malissimo. Guarda che lì posso colpire io. Buster. Stia calmo lei. Stia manzo. Tanto Piper colpisce sempre e solo me. Stia manzo. Respinge. Sì. Che poi Buster. Che è successo? Per le statistiche. Che caspita è successo? Ma come sono morti? Non ho capito. Faccio il pollicione. Quando non capisco devo fare il pollicione. Quando riflette Buster è comodissimo perché con Mr. P lo colpisco lo stesso. Se ferma il colpo non mi ritorna indietro. Non so che sta succedendo. Alex e Zan stanno massacrando gli avversari. Io comunque una kill l'ho fatta e sono contento. Quindi ho dato fastidio per il meme. Sì. Calmi Piper. Avvicinati al muretto se c'è il coraggio Piper. Piper. No. Volevo fare la kill per le statistiche. Comunque la prima andata forse è quel momento di scavallare. Dobbiamo cucinare come insegna Lollo. Vai Crax. Col Mr. P. Ecco le motte. Non l'ho scioppata. Devo scioppare le motte del calderone. Va. Aia Zan. Grossi danni subiti. Lì c'è Bastards. Ne sono fatto massacrata Meg. Sta cosa non è per niente good. Ok la Piper. Mamma mia che sverniciata. E qui mi sono fatto pressa male. Vedete la troppa sicurezza. Buono quel colpo? Zitti. Zitti. E quella va giù. Fermi che lo scarabevo. Pinsir va giù. Fermi che Pinsir va giù. Problema dei Buster. C'ha troppa vita. Guarda ci provo a mettere i pinguini per il meme. Piper igna mia che rischio che... Te sei... Eh vabbè. Ho sprecato i pinguini da pollo. Non devo sprecarli. Magari riesco a caricare la ulti. Ti prego fammi caricare la ulti. If you can. Eh no. Non ho caricato la ulti. Vi giuro che sto star drop è leggendario. Guardate. Se dallo star drop è leggendario. Mi dà una monnezza. Una skin tipo da 20 gemme. Io vi giuro. Impazzesco. Pronto a togliere Buster. Quello che rompe di più le scatole di tutti. Occhiala Meg. Occhiala Meg. Occhiala Meg. Ma quello è un mini... Ok. Meg è andato giù. Ma era un fake car armato. Quello. Sì. No. Vai pinguino. Aspetta aspetta. Devo recuperare vita. Devo sfruttare i pinguini. Graxi pinguini. Contro Piper. Non so dov'è. Eccola. Però c'ha il jump. C'ha il jump e non mi piace. Quindi appena arriva il pingu. Vai. Un po' di pressing. Non ho vinto un 1v1 considerate. Ma chi sono? Mamma mia. Il pentolino. Vabbè contro Piper era facile col pinguino. Faccio spreca il colpo. E quello era. Ferma the Meg. Ci abbiamo il match point. Il Meg point ci abbiamo. Ci abbiamo il Meg point. Non ho più i gadget. Pensavo di avere il gadget. Quella va giù. Quella va giù. Quella va giù. No. Ci sono arrivato per pochissimo. Prendi il Meg point. Sì. No. 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 Mi sta a colpire la mini Meg. La mini Meg. La mini Meg. Che poi mi sembra quella normale. No. L'ha rifatto. Godus. Godopoli. Zio Pera. Sì. Ce l'abbiamo fatta belli miei. Portata a casa. 4-1. Onestissimo. Per la terza volta. Campioni. E adesso. Se mi tiri fuori una skin. 9.041. Bene. Una skin da 29 gemme. Te do una testata. Lo schifo totale dagli star drop classificati. Star droppinio leggendario. Vado. Cornaso. Te prego. Ma che è? Vabbè. Lola flaggello. Pensavo di aver tolto. Una delle skin. Quelle. Della classificata. Per poi trovare quelle buone. Invece no. C'è sta Lola malvivente. Mamma mia ragazzi. Che monnezza. Aspetta. Do sta Lola. Skin super rara. Che amarezza. Almeno questa era epica. Vabbè ragazzi. Io spero vi sia divertiti. Ricordo Alex e Zan. Sempre sul pezzo in descrizione. Adesso vado a pushare le coppe. Vi chiedo un pollicione all'insù. È fondamentale. Mi sa che il video dei Sandy è arrivato a 10.000 like. Quindi preparatevi. Codice Crax. Apri lo shop. Super testore in descrizione. Ci becchiamo prossimamente. Ciao belli. Ciao ciao.